Laudetur Jesus Christus, cari amici, teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 26 luglio 2021 per il nostro commento del giorno. È iniziata la grande operazione della rivoluzione cosiddetta verde o green che si inserisce a pieno titolo nel piano del grande reset perché attraverso questa fase, questo passaggio che distrutturerà completamente tutto il sistema economico costruito in decenni in tutto il mondo e soprattutto in Europa, noi vedremo veramente un azzeramento di tutta quella che era una struttura, un impianto sociale, una modalità di vita che ha contraddistinto soprattutto gli ultimi due secoli e che verrà smantellata progressivamente fino ad azzerare tutto e a portarci poi in una prospettiva che è proprio di stampo direi amazonico. Aumenta in questo momento comunque la resistenza anche per questioni di interesse delle grandi aziende che si troveranno di fronte, molte perlomeno, alla prospettiva del fallimento e vedete come questo progetto che tende a ridurre le emissioni di gas e sera al 55%, queste sono le solite utopie, entro il 2030 richiederebbe proprio l'azzeramento dell'economia dei combustibili fossili, quindi i costi della transizione graveranno poi naturalmente sulle famiglie, sulle imprese, sui consumatori, vedete che già parlano di aumenti sensibili del 17-20% in autunno delle bollette della corrente del gas e tutto questo, dicevo, sarà un carico che si troveranno ad affrontare le famiglie che già vivono in una situazione gravissima e oltre a loro tutti i consumatori ed imprese. E mano a mano che queste pale eoliche, pannelli solari e tutto il resto che si sta mettendo in atto sostituiranno gli idrocarburi, si dovranno sostituire tutti i parchi macchine e quindi, come dicevo, aumenteranno le bollette, i beni di largo consumo, prodotti con l'elettricità o gli idrocarburi e le aziende saranno costrette a scaricare i maggiori costi che hanno, come sempre, sui consumatori finali che sono le famiglie. Poi il Fondo Sociale per la Transizione Climatica, di cui non si conosce né il portafoglio miliardario né quando sarà disponibile, dovrebbe ridistribuire alle famiglie quelle che sono più in difficoltà i denari per sopravvivere a questa transizione verde. E qui vedete che entra in campo il progetto malefico di questo, vedete, nuovo, possiamo chiamarlo reddito di cittadinanza universale che sarebbe praticamente la vera e propria riduzione in schiavitù della popolazione mondiale attraverso appunto questo reddito da fame che dovrebbe servire solo come sussistenza e sopravvivenza per non morire di fame. Quindi l'Europa diventa di fatto in questo passaggio, in questa trasformazione, un grande Stato socialista di stampo cinese, una brutta copia della Cina, a cui tutti contribuiranno, cioè saranno costretti a contribuire con le loro tasse che verranno poi ridistribuite, vedete, con questo reddito che sarà un reddito per morti di fame sul modello inventato dai grillini del reddito di cittadinanza. Quindi è una situazione veramente gravissima con vari problemi che si aggraveranno sempre di più, come per esempio la tassazione sui prodotti industriali che sono costruiti mettendo CO2 sia all'interno dell'Europa sia per tutti i paesi che vogliono esportare i propri prodotti sul mercato europeo. Per esempio Australia e Stati Uniti hanno già minacciato di bloccare tutto quanto, perché questa follia europea impoverirà ancora di più la quantità e la qualità dei prodotti che sono in questo momento sul mercato a livello mondiale. Quindi come al solito vedete chi si avvantaggerà di questa operazione infernale. In questa operazione ci saranno dei grandi gruppi come questi dell'Allianz Global Investor, speculatori d'oltreoceano, come per esempio Bloomberg, che diventeranno sempre più forti, sempre più ricchi, sempre più monopolisti diciamo di tutto il sistema economico. E vedete che la lista di quelli che sono i felici Beoti che si godono e se la spassano a questo momento e anche tutta quella parte di persone che sono felici di questa bellissima transizione verde, meravigliosa, che ci porterà a questo paradiso terrestre amazonico, oppure vedete a questa per alcuni altri, a questa nuova forma di New Age, di ruscellini e di animaletti che girano, di cinghiali anche che attraversano le nostre città, di lupi che scendono nei paesi, di orsi che sbranano magari le persone per le strade, ma questo è bello perché è verde, perché è ecologico e fa parte di questo scenario meraviglioso paradisiaco che stanno costruendo. E vedete come in tutto questo processo ci sono questi fiumi di denaro incredibili che continuano a scorrere verso questo progetto insensato, insano, che è iniziato a prendere forma già nel 2012 e ricorderete con quel famoso protocollo di Kyoto in cui si dovevano abbattere le emissioni che anziché diminuire del 5% come si era previsto, sono invece aumentate del 50%. Poi siamo arrivati al fatidico anno del 2020 in cui si dovette constatare che le emissioni, anziché diminuire del 20% erano invece aumentate del 60% rispetto ai livelli del 1990. E ciò nonostante, vedete la signora dai biondi capelli, Ursula von der Leyen, che cosa ha detto? Che praticamente questo non è un problema, bisogna andare avanti in questa politica, non bisogna fermarsi, tutta la grande rivoluzione green deve andare avanti, costi quello che costi e non ci si deve meravigliare perché ci stiamo proteggendo, stiamo facendo un passo epocale, vedete, che ci aiuterà sempre di più a entrare in questo nuovo mistero di questo mondo incantato, tutto verde, tutto green, tutto elettrico, tutto fatto di pale eoliche, ma poi alla fine di grandi morti di fame. Il clima, vedete, è rimasto comunque insensibile a questi problemi perché avete visto come ad esempio questa recentissima alluvione che c'è stata soprattutto in Germania ma anche in altri paesi come il Belgio che ha fatto cadere fiumi d'acqua ogni giorno, è qualche cosa che segue i grandi avvenimenti, i grandi eventi del passato come quello del 1951 in cui ci fu un alluvione, quella del Polesine che ricorderete con piogge battenti per 4 giorni, con 100 morti, 200.000 senza tetto per arrivare poi al settembre del 1868 quando ce ne fu un altrettanto devastante in Svizzera con precipitazioni per una settimana, con 50 morti e danni economici impressionanti e in quell'anno il lago maggiore, pensate, raggiunse i 200 metri di profondità. Ma vedete che a dispetto dei pensieri geniali che passano per la testolina della signora Ursula von der Leyen, nel 1951 eravamo veramente in un clima di, come si può dire, di grande ripresa, di grande speranze, di grandi aspettative e anche nel 1868 le attività umane erano quelle che toccavano poi i grandi cambiamenti, soprattutto nel settore industriale erano quasi assenti. Vedete come quei pensieri che attraversano a questo momento la testolina della signora von der Leyen sono quelli che sfuggono veramente alla gran parte delle persone perché mettono in luce oltretutto un cinismo senza precedenti, come alcune dichiarazioni che la signora von der Leyen ha fatto proprio subito dopo le sciagure in Germania quando ha detto che la sua dichiarazione è che l'intensità e la durata di quegli eventi sono stati favoriti di riscaldamento globale, sottolineando che le misure che bisogna prendere sono quelle che lei sta proponendo per la salvezza del pianeta, delle persone, cioè il riversamento di 1500 miliardi del denaro dei contribuenti nelle tasche di chiunque sia coinvolto o perché fabbricante o perché venditore o installatore di turbine eoliche o di parchi fotovoltaici o di automobili elettriche. Questa è la signora che governa in questo momento l'economia dell'Unione europea e che ci sta insegnando come dobbiamo diventare bravi bambini proprio in questa transizione ecologica progettata attraverso il grande Reset. Ma cari amici di radioascoltatori, il grande Reset, come abbiamo tante volte detto, lo farà nostro Signore Gesù Cristo che ha posto già una linea di demarcazione e che ha detto che oltre quella linea non si può più andare. E allora come diceva il buon Guareschi, aspettiamo che il Signore faccia quel famoso schiocco delle dita in cui dirà che a questo punto le cose si invertono. E allora inizia il passaggio dell'aratro, inizia veramente una rivoluzione verde, inizia veramente una vera e propria situazione di cambiamento totale in cui quest'aratro della storia, passando come uno spartiacque inarrestabile che dividerà ciò che c'è nel fondo della Terra da quello che è in superficie, ribalterà queste due realtà e quello che era stato sommerso, che era stato schiacciato, stritolato, distrutto in tutti i modi, emergerà in maniera prorompente venendo alla luce tutto questo marciume che ancora alla forza di poter proclamare, di gridare queste follie ininterrotte passerà invece inesorabilmente nel sottofondo buio e tetro della Terra. E cari amici riflettiamo su questa realtà perché non dobbiamo farci sorprendere né influenzare dalle sirene della comunicazione a senso unico e in questo momento ci vogliono soltanto terrorizzare ma è l'ultimo rantolo del demonio prima di essere definitivamente schiacciato sotto il tallone benedetto della Santissima Vergine prima che arrivi il trionfo del cuore immacolato di Maria ormai imminente ormai alle porte mentre il demonio grida, rantola e rugisce prima della sua inesorabile fine. E a tutti voi cari amici tele-ascoltatori l'augurio di una buona giornata. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Grazie.